Un gruppo di studenti dell'Ipsia Galileo Galilei di Caltanissetta ha visitato a Bruxelles la sede del CESE, Comitato Economico e Sociale Europeo. Qui gli studenti hanno incontrato l'Anissena Ester Vitale, componente del Comitato e rappresentante sindacale. Oltre al CESE hanno visitato la Casa della Storia Europea, il Parlamentarium e la sede della Commissione. L'iniziativa rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro e ha come obiettivo, afferma il dirigente scolastico Loredana Schillaci, di consentire ai nostri alunni di conoscere nuovi contesti socio-economico-culturali per favorirne la crescita sotto il profilo umano e professionale. È stato un incontro proficuo, ha detto Ester Vitale, che ha consentito ai ragazzi di verificare di persona le tante opportunità lavorative che potrebbe offrire loro l'Unione Europea.